...di fronte a casa, nelle carriere, in campagna, sono parte della famiglia, a volte stanno qui dentro, no? Alla storia della consuma, ovviamente, inizia nel momento in cui gli esseri mani diventano stanziali, i agricoltori e le donne, ovviamente, ripeto. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.